Volete ridere? Volete ridere? E noi eravamo complottisti. Gli Stati Uniti hanno appena alzato l'avviso di viaggio per Israele, uno dei paesi più vaccinati, sicuramente uno dei paesi più vaccinati. E come? Lo riprendiamo, noi lo riprendiamo. Uno dei paesi più vaccinati, a livello 3, riconsiderare il viaggio, il secondo più alto. Gli Stati Uniti sanno benissimo, troppi vaccinati, troppe varianti, Israele, paese caserma, paese guida di una sperimentazione con l'Italia, è una vera e propria bomba. E fra 15-20 giorni, 2-3 settimane, forse 4, perché noi siamo un pochino in ritardo, con la campagna vaccinale, l'Italia sarà la stessa cosa. Iscrivetevi al mio canale e mettete il like. Abbiamo appena iniziato a divertirvi.